Vertici incrociati PDL e terzo polo in vista delle amministrative di maggio. Dopo il tavolo del centrodestra di martedì, aggiornato la prossima settimana, in giornata sia i partiti del terzo polo, sia Udc, Api, Fli, Iosud che i Berluschioniani si aggiorneranno in due distinte riunioni per fare il punto su programma e candidati. I nomi in lizza restano sempre gli stessi, Basile, Baldacconi di Palma, nessuno però unificante, anche se nelle ultime ore spunta la possibile candidatura di Domenico Rana, ma l'Udc continua a cercare tra professionisti e imprenditori. Questa sera noi facciamo un ulteriore passo in avanti, dopo l'incontro avuto con il PDL, nel corso del quale abbiamo esaminato alcuni spunti programmatici importanti per poter eventualmente valutare ogni posto di coalizione, non tanto come cartello elettorale quanto invece come forza alternativa di governo per la città. Oggi noi valutiamo insieme alle altre forze che condividono questo nostro percorso di terzo polo allargato, diciamo così, l'iposto di una rosa di candidati da poter poi valutare in un momento immediatamente successivo con il PDL. Abbiamo dei tempi ristretti perché le elezioni sono ormai arrivate e riteniamo che dobbiamo fare tutti uno sforzo di grande volontà e soprattutto di responsabilità per poter fornire delle candidature quanto più forti che possono rappresentare la città. Siamo a buon punto. Poi sull'alluanza con Cito il segretario provinciale dell'Udc risponde. Io ritengo che non perché debba fare melina o debba aggirare l'ostacolo. Il problema, così come è stato impostato, non sussiste. Perché noi non poniamo né limiti, né vincoli, né argili. La politica è fatta di razionalità. Oggi noi ci troviamo di fronte delle forze politiche che hanno già un loro candidato sindaco. per cui avendo già una loro espressione in corsa non rappresentano oggetto di interesse per una coalizione che si sta costituendo.